Stamattina Peppino avrebbe dovuto ottenere il comizio conclusivo della sua campagna elettorale. Non ci sarà nessun comizio e non ci saranno più altre trasmissioni. Peppino non c'è, è morto, si è suicidato. Ma non sorprendetevi perché le cose sono state veramente così. Lo dicono i carabinieri. Il magistrato dice che hanno trovato un biglietto. Voglio abbandonare la politica e la vita. Questa sarebbe la prova del suicidio, una dimostrazione. E lui per abbandonare la politica e la vita che cosa? Se ne va alla ferrovia. Comincia a sbattersi la testa contro un sasso, comincia a sporcare di sangue tutto intorno. Poi si fasce il corpo con il tritolo e salta in aria sui binari. Suicidio. Come la marchi Copinelli che vola dalle finestre della questura di Milano. Oppure come l'editore Feltrinelli che salta in aria sui tralicci dell'era. Tutti è suicidio. Questo leggerete domani sui giornali. Come la marchi Copinelli che salta in aria sui giornali. Come la marchi Copinelli che salta in aria sui giornali. Domani stampa e televisione si occuperanno di un caso molto importante. Il ritrovamento a Roma dell'onorevole Aldo Moro, ammazzato come un cane dalle Brigate Rosse. E questa è una notizia che naturalmente fa impollidire tutto il resto. Per cui chi se ne frega? Del piccolo siciliano di provincia. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Di questo peppino impastato. Adesso fate una cosa. Spegnetela questa. Voltatevi pure dall'altra parte. Tanto si sa come vanno a finire queste cose. Si sa che niente può capire. Voi avete dalla vostra la forza. Del buon senso. Quello che non avrà peppino. Domani ci saranno i funerali. Voi non andate. Lasciamolo solo. E diciamolo una volta per tutte. Che noi siciliani la macchia la vogliamo. Ma non perché ci fa prove. Perché ci fa prove. Perché ci dà sicurezza. Perché ci dà in politica. Perché ci piace. Noi siamo l'amore. E tu peppino non sei stato altro che un tome. Tu sei stato l'inceno. Sei stato un lutto, un mascato pollino. Grazie a tutti